Ora più che mai è il momento di avere responsabilità nei comportamenti rispettando il distanziamento, usando sempre la mascherina, lavandosi spesso le mani ed evitando assembramenti. Così il virologo dell'ospedale di Pescara Paolo Fazzi, che alla luce dell'aumento di positivi e anche della crescita dei ricoveri negli ospedali, a pochi ore dal passaggio dell'Abruzzo fra le regioni arancioni e dunque con maggiori criticità sanitarie, invita la cittadinanza a non sottovalutare quello che sta accadendo. La cosa purtroppo importante è il numero dei soggetti che vengono ricoverati e che vengono ricoverati all'UTI, l'UTI sarebbe l'abbreviazione dei reparti di reanimazione. Questa volta da uomo della strada vorrei fare un appello se possibile a tutti i cittadini abruzzesi perché ho visto, io sono di Pescara, che questo fine settimana, anche lungo la riviera, il tempo era veramente molto bello, però c'erano parecchie persone, molte senza mascherina e chi faceva footing non lo faceva secondo i dettami consigliati. Questa è una battaglia, anzi una guerra che si perde e si vince assieme. Dottor Fazzi, il vaccino sembra ormai ad un passo, notizia di poche ore fa. Senza vaccino questa guerra non la si vincerà facilmente, comunque durerà molto tempo. Sentivo parlare stamane di un 90% di potere immunogeno, non è che sia elevatissimo ma insomma già è tanto perché tu riesci a creare quella che poi si definisce immunità di greggio e che poi in realtà per Covid-19 e per questo tipo di virus non si potrà mai realizzare perché poi purtroppo l'immunità che abbiamo non è permanente e penso che non lo sia nemmeno quella determinata dalla vaccinazione. Però oggettivamente se è vera questa notizia, se è vero cioè il fatto che noi già da dicembre, da gennaio potremmo vaccinarci, ovviamente veramente possiamo cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel.